Buongiorno a tutti ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le batterine dal lunedì al sabato c'è la rassegna stampa con occhio ai giornali l'appuntamento che come sempre vi dà la possibilità di dare un'occhiata ai giornali lo faremo tra poco oggi lunedì sono molto più stringati rispetto al resto della settimana c'è un po' lo sport insomma poche sono le pagine locali ma insomma l'essenziale lo troverete andando ad acquistare il vostro quotidiano di fiducia noi intanto cominciamo con il santo del giorno vediamolo subito oggi è Sant'Enrico II il suo esorto alle 5.36 e tramonterà alle 20.51 il tempo invece qui sulla costa sarà buono come vedremo tra poco mentre nell'entroterra insomma ci sarà la possibilità di qualche precipitazione 25 gradi alle 7.30 la temperatura quindi è già caldo oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso per il transito di velature con addensamenti cumuliformi lungo l'appennino nelle ore più calde della giornata nel pomeriggio avremo anche locali rovescio temporali a ridosso dei rilievi la temperatura senza variazione di rilievo i venti di brezza tesa orientali con raffiche fino a vento moderato lungo la costa nelle ore centrali quindi di conseguenza avremo il mare che diventerà mosso appunto in concomitanza con l'aumentare del vento per domani avremo una giornata di cielo sereno su tutta la costa con temperature senza variazione di rilievo e il tempo stabile soleggiato ci sarà per tutta questa settimana allora ieri a proposito di mare di sole e di temperature alte ieri a un certo punto un milanese di 69 anni si è vista brutta perché un'onda un'onda anomala all'improvviso ha ribaltato la sua imbarcazione lui era lì comodamente sdraiato a prendersi il sole in mezzo al mare ebbene ieri poi a un certo punto ha dovuto fare i conti con questa ondata questa onda anomala che si è abbattuta su questa barca tra l'altro questo 69enne ha sbattuto contro la parete della sua imbarcazione si è fratturato una spalla lussandosi l'altra ed è stato poi soccorso dalla guardia costiera di Pesaro che poi insomma la guardia costiera con i suoi agenti che l'hanno portato in ospedale a causare il mare mosso potrebbe essere stato il transito di un motoscafo i consigli della guardia costiera prestare massima attenzione nei movimenti a bordo e al corretto utilizzo delle dotazioni di sicurezza un motoscafo anche distante quando passa può essere comunque pericoloso proprio perché provoca queste onde dal mare al cielo guardate questa bella fotografia paracadutismo ieri c'è stato questo schieramento a 29 ieri a Fano sono giunte le atlete più preparate per il fatto di paracadutismo ovviamente per riuscire a fare questa formazione in cielo c'erano anche dei giudici appositamente sul posto per omologare e ufficializzare questo record il record che c'è stato questo tentativo riuscito a 29 sono paracadutista in uscita da due aeroplani e poi vedete si sono prese tutte insieme hanno formato questa bella figura questo schieramento e quindi i giudici hanno convalidato questo record e quindi è stata una bella giornata tra l'altro ieri a Fano si vedeva questo aereo più grande del solito solitamente siamo abituati a vedere gli ultraleggeri di un certo tipo ieri invece c'erano uno molto più ciccione insomma che conteneva tutte queste ragazze che poi si sono lanciate tutte insieme e hanno fatto questo abbattuto questo record poi sempre dalle pagine di Fano e Urbino salviamo la spiaggia libera a Torrette di Fano il caso è segnalato tra i bagnermi a Sedermete appello e raccolta di firme poi una serata da tutto esaurito travolgente omaggio a Mina a Pesaro invece la moda e la crisi le modelle incantano i lavoratori invece accusano parliamo della sfilata della CNA in Piazza del Popolo a Pesaro Piazza del Popolo Gremita in Piazzale con l'enuncio invece gli striscioni Bordoni dice eventi che fanno bene alle ditte vicino alla protesta invece prime sfilate poi ci licenziate chi è arrivato nell'orario stabilito ha trovato solo posto in piedi una piazza del popolo gremita all'inverosimile ha applaudito le ragazze di questa sfilata idee in moda tra l'altro credo c'eravamo anche noi come Fano TV mi pare quindi potremo vedere anche qualche immagine qualche immagine nei prossimi giorni c'era anche Lucia Nibali la ragazza che è stata sfigurata con l'acido sono qui per la grande stima d'amicizia che mi lega a Giosquillo ha detto lei c'erano anche le ragazze del basket femminile poi insomma c'era tanta altra gente Nicolas Vaporodis molto gradito dal gentil sesso poi c'era anche la Falchi e c'erano anche loro invece questi a poche decine di metri da Piazza del Popolo un presidio dei lavoratori della CNA che manifestava tutta la propria rabbia contro la dirigenza dell'associazione per i 32 licenziamenti previsti dal piano di risanamento prima sfilata e poi ci licenziate era uno degli slogan con i quali ci si prepara ad affrontare il primo confronto tra associazione e sindacati in programma già per domani una notizia che troveremo anche negli altri quotidiani eccola qua allora dal Corriere Adriatico sfilano Eleganza e Glamour Piazza Gremita Giosquillo con Signoretti Anima la Serata Anna Falchi l'ospite più attesa e poi Le Veline eccetera eccetera da qualche parte c'è scritto spero anche questa questa protesta dei lavoratori comunque la vedremo anche sul messaggero invece ieri è stata una giornata di mare piena di gente Trafano e Pesaro Sottomonte auto parcheggiate ovunque la Polizia Municipale ieri ha avuto un gran bel da fare quella di Pesaro ma immagino anche quella di Fano anche se lì il traffico è minore il parcheggio è un po' più decente Raffica di multe e sequestri è stata una giornata intensa per la Polizia Municipale impegnata nel controllo della viabilità e sul fronte dei sequestri in spiagge le zone più battute Baia Flaminia e Sottomonte si è ripresentato il solito problema in Baia durante la mattinata per la sbarra al campo di Marte che è stata di nuovo questa sbarra alzata e quindi poi sono entrati tutti insomma Traviata e Don Pasquale per l'estate in musica il 16 e il 23 il coro Fila Armonico Rossini quindi appuntamenti sotto le stelle e invece da Sassofeltrio shock per la morte di Matti vittima di un incidente in moto in Toscana Matteo Tomassetti 34 anni che risiedeva a Fratte di Sassofeltrio per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare il motociclista è morto sabato pomeriggio in un incidente stradale in provincia di Arezzo lungo la provinciale 77 Tiberina che conduce a Sansepolcro ha perso il controllo della sua potente Ducati in località Pieve di Santo Stefano in un tratto con una doppia curva oggi si decide della data del suo funerale poi a Fossombrone da Fossombrone sacchi di rifiuti abbandonati senza raccolta differenziata ecco la foto della domenica a ridosso dell'ufficio postale una foto che si commenta da sola la pagina di Fano invece del Corriere Fratelli d'Italia Fano resisterà a ERA protetta dal PD dice no Fratelli d'Italia all'inserimento del privato quindi la società bolognese ERA nella azienda pubblica multiservizi Aset per non entrare in una logica privata e in una gestione incontrollata delle tariffe in sostanza un po' come si dice sempre come si dice spesso dove c'è il privato c'è ovviamente la voglia di fare business e quindi di fare profitto e di conseguenza c'è paura timore anche perché una società privata può aumentare le tariffe appunto per generare profitto Esadora Santoro di Fratelli d'Italia ricorda la tutela di Aset da parte del centrodestra e sprona Seri il sindaco di Fano a ribellarsi alla città di Pesaro si infortuna sulla barca soccorso in mare di portista partito da Fano vittima di un'onda anomala interviene la guardia costiera con la croce rossa italiana tempestivo trasbordo sull'ambulanza del 118 per il trasporto a San Salvatore sul litorale invece una esercitazione turismo e qui qui c'è un po' di sorpresa su questa notizia ma comunque è pubblicata sul Corriere Adriatico di questa mattina anche la Proloco protesta per il ruolo egemone del vice sindaco Stefano Marcheggiani il presidente Lucarelli amareggiato per il bando dal bando per il bastione Sangallo contestata anche la scelta unilaterale di fissare la data dei quattro cantoni oscurando un evento simile invece in questa fotografia il Corriere Pubblica Etienne Lucarelli fino a pochi giorni l'esecutivo che governa la città di Fano veniva definito eronicamente dall'opposizione alla giunta dei tavoli per il susseguirsi di incontri che avrebbero dovuto trovare l'accordo nella realizzazione dei progetti un percorso che inevitabilmente però finiva col prolungare l'attesa per la realizzazione degli stessi va bene ve lo lascio leggere da soli allora la Fano di oggi e la Fano di ieri amata guida culturale Florenzio Ferri in dialetto italiano vi abbiamo fatto vedere anche nel nostro telegiornale un servizio su questo personaggio su questo signore tutto che ha redatto con delle belle immagini ha redatto questo libro in fanese Aspas Perfano Perfan tradotto Aspasso Perfano con delle didascalie in dialetto fanese che illustrano gli aspetti della città di una volta un libro tutto da vedere andiamo adesso sul messaggero si parla di commercio in primo piano il commercio patto per la sicurezza per contrastare i furti la confcommercio stipula convenzioni con un'agenzia di vigilanza il direttore Varotti dice ai negozianti è richiesto solo il costo di installazione del dispositivo tutto questo perché? perché c'è bisogno di sicurezza quella che tiene lontano comunque i furti una sicurezza sulla proposta turistica che questo territorio deve fare è Amerigo Varotti che ne parla Varotti è direttore della confcommercio negli ultimi tempi ci sono stati due furti in negozi di telefonini e di moto i commercianti vengono presi di mira in un momento in cui le vendite sono in linea con un mercato difficile e insomma c'è quest'accordo che prevede una spesa tra l'altro modica di 25 euro più IVA al mese che consente di avere un servizio assicurato una macchina sul territorio come deterrente per furti e rapine poi sotto anche qui un'onda anomale finisce un diportista poi in consiglio i cordoli della discordia rimuovere i cordoli sulla statale sarebbero sufficienti meno di 3000 euro e questa è la cifra fornita durante un sopralluogo notturno davanti a Villa Caprile a Pesaro che ha spinto i detrattori dei 36 cordoli in cemento che si trovano di fianco alla ciclabile sulla statale 16 che ha convinto anche consiglieri di opposizione ma anche cittadini e negozianti eccetera a non indietreggiare sulla volontà di rimuovere questi cordoli eccoli qua li vedete pubblicati in questa piccola fotografia sul messaggero poi ancora una settimana bollente dal punto di vista meteorologico quindi avremo ancora temperature che alcune volte si potranno avvicinare anche ai 40 gradi poi a Pesaro si scaldano i braceri a proposito di caldo crescono le contrade è un palio in realtà la gara del palio dei braceri che nata rinata qualche anno fa dal nulla sta avendo un grandissimo successo sotto invece la storia di una persona che è rimasta senza corrente elettrica senza luce e vive con 250 euro al mese ora sono sicuro mi staccheranno anche il gas dice lui ho chiesto ma inutilmente di rateizzare il costo e insomma con 250 euro al mese questa persona è seguita dai servizi sociali ovviamente per fortuna insomma una condizione questa che si è aggravata nelle ultime settimane quando si è ritrovato dentro il piccolo locale nel quale vive senza la corrente elettrica dopo che per un mese la fornitura è stata ridotta del 15% voi sapete che adesso prima di staccarla la riducono quando la riducono però al 15% capite che insomma si accende una lampadina poi devi andare di là devi spegnere perché se accendi il forno ammesso che sia possibile non devi tenere accesa la televisione insomma è un così poi alla fine gliel'hanno staccata ma con 250 euro al mese davvero mozzicone di sigaretta a terra una beffa ultima pagina del messaggero poi chiudiamo il Parlamento non approva la legge che prevede multe da 150 euro per chi butta le cicche senza così con non curanza per la strada però l'assessore Pesarese Briglia dice noi comunque andiamo avanti lo stesso anche se il governo non ha fatto la legge esiste già una normativa che vieta di sporcare il suolo e quindi noi andiamo avanti tra l'altro hanno consegnato anche ricorderete i posacenere tascabili di alluminio in alluminio quindi insomma loro a Pesaro vanno avanti e comunque va bene meglio così per la zanzara Tigre sono giorni da Bolino Rosso mercoledì il picco di questi simpaticissimi insetti i numeri della ricerca incrociano ciclo produttivo riproduttivo temperatura e tasso di umidità un mix che fa sì che queste zanzare si moltiplichino di giorno in giorno sempre di più lavoro a rischio in CNA Pesaro sfila il sit-in anche uno sciopero per rafforzare la protesta oggi un altro vertice tra i sindacati e la direzione poi paracadutismo battuto il record dal femminile spettacolare esibizione di grande formazione ieri giudici hanno omologato il primato raggiunto targato Fano ed è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa Occhio giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30 un saluto anche a tutti quelli che ci sei uno in replica fino alle 8.30 e poi alle 9.10 alle 13.30 stasera invece alle 20.30 come sempre c'è il telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti buona giornata Grazie a tutti